Il pensiero primario è rivolto alle miss che le vedo da qua, che stanno per uscire, le vere protagoniste della serata. Max Eventi vi dà il benvenuto alla presentazione del concorso nazionale Una ragazza per il cinema. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa serata di finale regionale di Una ragazza per il cinema. Concorso sul palcoscenico nazionale ormai da 34 anni che Max Eventi cura in esclusiva per Veneto e Treddino Alto Ange, che conquisteranno la fascia questa sera, accederanno alle finali nazionali che avranno luogo nella splendida cornice del teatro antico di Taormina l'11 settembre. Voglio ringraziare il lago che ci ospita stasera in questa meravigliosa cornice. Grazie a tutti e benvenuti a tutti e benvenuti a tutti. Grazie 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 a tutti. la さludere al Giornalista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sala Crescente 17 Elisabetta Rossi Infavoreato Ehi, ehi, ehi 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 Alice Radicini Ehi, ehi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.